ciao a tutti ragazzi io sono maxi il canale è maximilk e questo è un nuovo glitch nella patch 1.21 in questa perla di patch andiamo a vedere subito come si fa un minimo di investimento di 8000 ci serve e un garage quindi questo glitch lo possono fare anche chi non ha nulla però un minimo di garage serve e con un minimo di investimento allora andremo a comprare una carry rebel fatto questo che cosa dobbiamo fare andiamo a ruote fuoristrada standard e mettiamo le ruote adesso andremo a vedere ve lo faccio vedere con calma ecco allora ruote standard e poi andremo a montare le rider che costano 5000 quindi abbiamo fatto 5000 le ruote 3000 di investimento per comprare la carry rebel e ora possiamo anche venderla certo non è un grandissimo glitch però ci frutterà 29.000 29.000 togliamone 8.000 abbiamo guadagnato 21.000 per questo glitch lo possiamo fare ripetutamente una dietro l'altra non so come non so perché però sembra che non ci sia bypass per questa questa cosa quindi possiamo farlo tutte le volte che vogliamo e ripetere all'infinito cioè possiamo fare 100.000 non so in 10 minuti certo non è come duplicare un auto di russo però meglio da incalciare le palle cioè quindi ragazzi approfittate perché questi sono bug che penso che andranno a appacciare molto in fretta si suppone che fixeranno molto in fretta adesso comunque richiamo un altro veicolo così vi faccio vedere come si vende di seguito il veicolo aspettiamo un secondino adesso arriva il l'altra carry rebel e noi cosa dobbiamo fare la stessa identica cosa sempre con il solito investimento giustamente di 3.000 perché non è che la rebel si pubblica compriamo la rebel andiamo al custom compriamo gli stessi cerchi che abbiamo comprato prima e il gioco è fatto andiamo a rivendere un'altra volta questa e rivendiamo un'altra volta questa rebel questo glitch funziona anche in next gen anzi con una miglioria diciamo comprando l'ultimo clacson della della serie che è gratuito frutterà intorno a 42.000 quindi comunque via next gen può farlo e più o meno gli rimarranno 34.000 giù di lì adesso non so di preciso comunque si mi sembra 34.000 e niente potete farlo anche lì tutte le volte che volete l'unica pecca è che il ps3 questo clacson non c'è o comunque non io non l'ho troppo quindi non so che dirvi ragazzi approfittate finché potete un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti